L'Europa non è solo un vecchio continente, ombra opaca del mercato statunitense ma contiene anche lei delle chicche che possono soddisfare a mio parere anche gli investitori più esigenti. Certo molte di queste non possono dare rendimenti stratosferici come le cugine americane ma esistono anche qui in Europa delle top di gamma ed è interesse di noi investitori anche per la semplice diversificazione andare a pescare aziende stupende in ogni parte del globo. Ciao a tutti bentornati sul canale Io Risparmio, io come sempre sono Pasquale il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto e nonché educatore finanziario RAEF ed autore del libro Una meno 35.000 in 18 mesi, libro del quale trovi qui sotto il link nel caso tu volessi acquistarlo dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore risparmiatore consapevoli. Trovi qui sotto la versione cartacea o kindle ovviamente i due link non i libri LVMH, Louis Vuitton Moet NSC. Parliamo del lusso con questa azienda che opera nei beni di lusso in tutto il mondo che offre champagne, vini, liquori. Fornisce anche prodotti di moda e pelletteria che sono quelli più famosi offre profumi e cosmetici, orologi e gioielli e inoltre yacht progettati su misura con il marchio Fatship oltre a progettare e costruire anche yachti lusso con il marchio Royal Van Lent. Fornisce inoltre quotidiani per quanto riguarda l'editoria e con Belmond un servizio turistico di lusso. Anche prodotti di vendita al dettaglio selezionati oltre a gestire Jardin d'acclimentation, un parco divertimenti per il tempo libero. Al momento l'azienda gestisce 5.556 negozi ed è un'azienda che è stata costituita nel 1923 e ha sede a Parigi in Francia ed occupa al momento quasi 158.000 dipendenti. Azienda che nei primi 9 mesi del 2022 ha fatturato 56,5 miliardi di euro con tutti i mercati in crescita a parte l'Asia che è stata impattata dalle sanzioni che ci sono state verso la Russia ma che sembrano aver avuto un impatto non eccessivo dato anche la grande diversificazione geografica che è l'EVMHA. Il settore Wine Spirit ha visto una crescita organica del 14%, quella del fashion e dell'Eder del 24%, il settore cosmetica del 12%, quello degli orologi della gioielleria del 16% e quello del retail del 20%. Azienda che ha un profitto netto del 18,36% con un margine lordo del quasi 69% e il lusso non smette mai di stupirci. Passiamo a Adyen che gestisce piattaforme di pagamenti in Europa, Megliorente, Africa, Nord America, Asia Pacifico e America Latina. La piattaforma dell'azienda integra uno stack di pagamenti che include servizi di gateway, gestione del rischio, elaborazione e emissione, acquisizione e regolamento. Offre una infrastruttura di back-end per autorizzare i pagamenti attraverso i canali di vendita dei commercianti, nonché online, mobile, in negozio ed API. Fa anche servizi di approfondimenti sui dati. La piattaforma dell'azienda serve una vasta gamma di commercianti su vari verticali, collegandoli direttamente a Visa, Mastercard e altri metodi di pagamento. Adyen è stata costituita nel 2006 a set ad Amsterdam nei Paesi Bassi. Al momento impiega circa 2.575 dipendenti, ha un margine lordo del 12% e uno netto del 7,4%. Nella prima metà del 2022 Adyen ha processato operazioni per quasi 346 miliardi di dollari, in aumento del 60% anno su anno, con un profitto netto di 608,5 milioni di euro, con un incremento del 37% anno su anno. Più della metà di questi 608 milioni, e per la precisione 347, sono generati dall'Emea, mentre il Nord America contribuisce con 152 milioni di dollari, e comunque in entrambi i casi gli aumenti sono stati anno su anno veramente eccezionali. Passiamo poi a Novo Nordisk, è un'azienda sanitaria che si occupa di ricerca, sviluppo e produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici in tutto il mondo. Opera con due segmenti, cura del diabete e dell'obesità e la biofarmaceutica. Il segmento per la cura del diabete e dell'obesità fornisce prodotti nei settori dell'insulina, del GLP1 e dei relativi sistemi di somministrazione dei prodotti anti-diabetici orali, dell'obesità e delle altre malattie croniche. Il segmento Bio Pharmaceuticals offre anche prodotti nel settore dell'emofilia, dei disturbi della crescita e della terapia ormonale sostitutiva, anche accordi di collaborazione aziendale con Gilead Sciences. Novo Nordisk ha anche una collaborazione di ricerca con la Lumen Bioscience per esplorare strategie per la nostra amministrazione di farmaci biologici orali e per le malattie cardiometaboliche. È un'azienda che è stata fondata nel 1923 e ha sede a Bugs Bar in Danimarca e al momento ha quasi 53.000 dipendenti. Produce un margine lordo dell'84% e uno netto del quasi 32%. Le vendite sono cresciute con una media del 18% con un eccezionale più 107% per quanto riguarda le vendite nel settore del trattamento dell'obesità. Le vendite sono cresciute, come dicevo prima, così come il margine operativo che ha portato l'EPS a crescere da 5.45% del primo trimestre del 2021 a 6.22% del primo trimestre del 2022 e un profitto netto aumentato del 13% sempre in comparazione di questi due trimestri. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste tre scelte e se anche tu avresti scelto queste tre aziende o se ti saresti orientato verso altre. Ne hai già qualcuno in watchlist o l'hai già in portafoglio? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Se questo video è stato il tuo gradimento, per favore ti chiedo di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma. A te costa un attimo, ma per me significa il mondo. Se puoi se nuovo sul canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene, anche per oggi è tutto e non me ne sta solo che salutarti e dirti arrivederci a un nuovo video. Ciao, a presto!